sotto sotto dove c'è la roba io me la rischio però stiamo già rischiando sopra me sto a parare come posso togli le microgile aspetta che sto a push a uno a terra a terra a terra tutti i due ci devo curare state contro uno rega state contro uno non c'è lo scudo rega io faccio stritta col pompe stanno qua, stanno qua, stiti da qua non so manco se l'ho hittato si se l'ho hittato ma sono tutti e due off ma è matto sto ma è matto sto non mi dà scena c'è un po' tutto si però adesso ci ha animato quello ci prova guarda lì compagno e mai te ci accompagno nulla c'è una spazzetta l'ho hittata indietro no 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 voglio sopra la casetta dalle armate non ti scasse guarda via 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 alla sono sono